Ai miei occhi lei rappresenta il mistero stesso del mondo Non sono altro che un ragazzino quindicenne che realizza scarpe Adesso che ho 27 anni non mi sento minimamente più saggia di quando ne avevo 15 Farò delle scarpe che facciano nascere in lei il desiderio di camminare sempre E' questa la mia decisione Grazie